Parliamo di liberi consorsi, che fine farà Gela? Verrà trasferita, finalmente entrerà a far parte della città metropolitana di Catania o no? Guardate, questo decide il Parlamento, noi la legge l'abbiamo fatta, la prima è stata approvata, abbiamo riconosciuto la validità del referendum di Gela come governo, abbiamo presentato la legge all'Ars, al Parlamento del Ciliano, però lì decidono i 90 deputati. Il governo, la giunta regionale ha approvato, non so come finirà in Parlamento sinceramente, ma di questo non posso decidere io. Vuole condividere con noi il suo punto di vista, cosa desidererebbe lei? Io desidererei che Gela cominciasse a lavorare per diventare essa capoluogo di un libero consorzio, poi la vicenda, è chiaro, va rispettato comunque l'essere del referendum perché ha previsto il passaggio all'area catanese, però, ripeto, cominciamo a lavorare per fare Gela capoluogo. Grazie. 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 Grazie.